In Toscana il 5,4% della popolazione vive in condizioni di povertà. La raccolta alimentare è un gesto di solidarietà che aiuta persone indigenti a ricevere cibo. A Empoli, dalla scorsa estate, attivo l'Emporio Alimentare per aiutare chi ha bisogno. È una rete di associazioni, ben nove associazioni che insieme all'amministrazione comunale, alla società della salute, si sono unite per creare l'Emporio Solidale. Un market della solidarietà in cui grazie ad una tessera si va a far spesa senza spendere. L'Emporio Solidale già ha un numero di tessere pari a 280, quindi 280 famiglie che vanno a far spesa all'Emporio Solidale per circa 800 persone. In 73 punti Unicop è possibile riempire un sacchetto con alimenti indicati per aiutare chi ha bisogno. Un gruppo di volontari si occuperà di raccoglierli e portarli a destinazione. Le nostre associazioni di tutto il territorio usufruiscono di questa merce che in un primo momento viene portata al magazzino di resa a Vanè e poi in base ai bisogni, in base alle famiglie che le associazioni hanno viene distribuito. Quindi è un piacere per noi dare questo sostegno, ma soprattutto abbiamo visto negli anni aumentare la solidarietà nelle persone. Sono 73 i punti di vendita coinvolti, 200 le associazioni, 38 le sezioni soci e oltre 1000 i volontari di questa grande giornata di solidarietà organizzata da Unicop Firenze e Fondazione Il Cuore Si Scioglie.